La duchessa del Sussex ha celebrato con stile la pietra miliare della figlia per celebrare il primo compleanno della piccola Lilibet. Lo scorso sabato, Meghan, duchessa del Sussex, ha festeggiato in grande stile. Durante il fine settimana, il principe Harry e la duchessa Meghan hanno organizzato un picnic informale intimo nel cortile del Frogmore Cottage per il giorno speciale della figlia, completo di torta e trucca bimbi. L'amica di famiglia e fotografa Mizan Harriman ha pubblicato le foto dell'arduno su Twitter, inclusa una foto di gruppo in bianco e nero di Meghan che tiene Lily accanto agli amici. In quello scatto, Meghan appare disinvoltamente elegante con un top a maniche lunghe infilato in un paio di pantaloni gessati a gamba larga. È stato un tale privilegio celebrare il primo compleanno di Lilibet con la mia famiglia e la sua, ha scritto Harriman nella didascalia delle immagini. Gioia e trucca bimbi tutti intorno, altre foto condivise da Harriman includeva nel candido ritratto del compleanno di Lily, in cui la bambina di un anno posa in un vestito azzurro mentre era seduta in un campo erboso al Frogmore Cottage, e le foto degli ospiti e dei loro bambini che indossano la pittura per il viso. Un portavoce del Sussex ha confermato a Bazaar.com che Harry e Meghan sono grati per le persone in tutto il mondo che hanno donato più di 100 dollari. 000 World Central Kitchen, un ente di beneficenza che sta loro a cuore, in onore del Grande Giorno di Lily. WCK risponde alle crisi umanitarie, climatiche e comunitarie fornendo pasti a chi ne ha bisogno. Più di recente, l'ente di beneficenza ha operato a Uvalde, in Texas, o l'indomani della sparatoria nella scuola elementare in Ucraina dopo che la Russia ha lanciato un'invasione militare. Il duca e la duchessa di Sussex sono arrivati nel Regno Unito mercoledì scorso, portando con sé Lily e il loro figlio di tre anni, Archie, per il giubileo di platino della regina Elisabetta. La coppia ha fatto un'apparizione pubblica ufficiale venerdì per partecipare al National Service of Thanksgiving presso la Cattedrale di Sti. Paul, dove sono stati raggiunti da altri reali tra cui il principe William, la duchessa Kate, la principessa Beatrice e la principessa Eugenie.